In un testo dell'Amazon Kappa, nell'Amrim, descrive l'attaccamento e il desiderio come una mancia d'olio in un tessuto. Che quando cade l'olio in un tessuto, nel cotone, l'olio gradualmente comincia a espandersi sempre di più ed è molto difficile da togliere. L'attaccamento è questa attitudine di aggrapparci su qualcosa, qualcosa sul quale noi proiettiamo la nostra propria felicità. Noi crediamo che rimanere con quella cosa, con quell'oggetto, ci farà star bene, ci farà star meglio, ci farà evitare una certa sofferenza. Ci aggrappiamo a quella cosa e non vogliamo assolutamente molare. Il desiderio è quando noi invece proiettiamo su qualcosa che non abbiamo, che non è con noi, la nostra propria felicità. Quindi io sarò felice, io starò bene, io eviterò la sofferenza, eccetera, eccetera. Quando riuscirò a ottenere questo, a fare quell'altro, a qualcosa, proiettiamo su un oggetto, su un qualcosa. Spesso, magari avete già sentito dire, no, che all'attaccamento il desiderio è una delle principali cause della nostra propria sofferenza, dei nostri propri conflitti, eccetera. La realtà, dal mio punto di vista, è che il problema non è l'attitudine di non voler molare, di aggrapparsi a qualcosa, o quella di proiettare su qualcos'altro. Quindi il punto non è l'attaccamento o il desiderio in sé e per sé, come attitudine. Ma è su che cosa? Perché se io mi aggrappo a qualcosa come quello che mi farà felice, ma che in realtà non è così, alla fine soffro di più. Se io proietto la mia felicità su qualcosa che in realtà poi alla fine non riesce a sostenere la mia felicità, alla fine soffro di più. E se noi vediamo molto spesso, noi proiettiamo la nostra felicità su cose che non riescono a sostenere uno stato di benessere. Però oggi volevo parlare principalmente che noi abbiamo tanti attaccamenti, a tanti desideri. Abbiamo l'attaccamento e il desiderio, perché in tibetano si usa una parola sola, che è de chak, nella quale de fa riferimento a desiderio, chak fa riferimento a attaccamento. De ba è desiderio, chak pa è attaccamento. Comunque, è molto simile come attitudine quello che cambia che in un caso è proiettato verso qualcosa che abbiamo, in un altro caso verso qualcosa che non abbiamo. E noi abbiamo tantissimi tipi di attaccamenti, di desideri, in questo caso si manifesta più come desiderio. Però, tra questi c'è l'attaccamento e il desiderio ai piaceri sensoriali, c'è il desiderio che riguarda la ricchezza, c'è il potere, c'è la immagine, quello che gli altri pensano di noi, eccetera, eccetera. Cioè, sono tutte cose abbastanza forti nella nostra vita, no? Se noi vediamo, molto spesso veniamo mossi nella nostra vita, da che cosa? Dall'attaccamento e dal desiderio. Perciò, è una forza veramente importante nella nostra vita. Però, fra tutti questi desideri, secondo me c'è uno che è ancora più forte, ed è una fregatura ancora più grande di tutti gli altri. Che è l'attaccamento alla realtà così come secondo noi dovrebbe essere. Noi inevitabilmente generiamo un'immagine di come secondo noi ogni cosa più o meno dovrebbe essere. Noi conosciamo una persona, abbiamo una nostra immagine di come quella persona dovrebbe essere. Più passa il tempo che conosciamo la persona, più andiamo a solidificare questa nostra immagine idealizzata dell'altro, di come l'altro dovrebbe essere. Certe volte addirittura noi crediamo che stiamo nel diritto di impore all'altro come dovrebbe essere perché lo conosciamo bene. Quindi, madre, padre verso i propri figli, figli verso i propri genitori, amici, coppia, in ogni senso questo accade. Quindi noi proiettiamo sull'altro come l'altro come l'altro dovrebbe essere. Poi, quando l'altro corrisponde a quella nostra aspettativa, a quel nostro desiderio, siamo contenti. Ah, che bene. Quando non corrisponde, rimaniamo male. Oggi è lunedì, si comincia la settimana e uno proietta che cosa dovrebbe succedere, come sarà, cosa dovrò fare, cosa non dovrò fare. Ah, devo fare questo perché così accade quell'altro. Incontrerò questa persona, farò questo, farò quell'altro. Noi creiamo una nostra immagine del nostro futuro. Creiamo un'immagine di come, secondo noi, le cose dovrebbero essere. Il punto è che la nostra capacità di prevedere che cosa accadrà, di immaginare la realtà fuori dal momento presente, è abbastanza scarsa. Nel senso che la quantità di variabili e di cose che sono costantemente in movimento sono molto, molto, molto alte. E noi non abbiamo la capacità di vedere tutto ciò che avviene, come avviene, eccetera, eccetera. Non essendo consapevoli di questo, rimaniamo aggrappati alla nostra immagine di come, secondo noi, le cose dovrebbero essere e di conseguenza non riusciamo a goderci spesso la realtà, la vita. Perché quando siamo aggrappati a come qualcosa dovrebbe essere, e poi non è in quel modo, cosa succede? Non riusciamo più a vedere e aprirci ad altre possibilità, perché rimaniamo bloccati in quella. Ah, ma questo non doveva essere così. Mi potete spiegare perché? Ah, perché io l'ho immaginato diverso. Che cosa vuol dire? Sin da quando quello che io immagino deve determinare la realtà? Almeno per me, assolutamente no. Non so se avete quel potere. Ah, ma tu non dovresti essere così, l'altro non dovrebbe fare cosa. Chi sono io per dire che cosa l'altro dovrebbe o non dovrebbe? Io posso dire, dentro la mia visione, sarebbe meglio per te se facessi così o se non facessi così. Ok, però non dipende da me quella scelta. E molto meno ho il potere di poter controllare ogni cosa come sarà. E questo è un attaccamento che è molto molto forte, perché si manifesta su tantissimi livelli. Si manifesta sull'immagine idealizzata che andiamo a generare su noi stessi. Si manifesta sull'immagine idealizzata che noi proiettiamo intorno al nostro lavoro, intorno alle persone che ci circondano, intorno alla famiglia, intorno all'ambiente, tante cose. Addirittura uno può rimanere male perché pensava che ci fosse il sole, invece c'è la pioggia. Quello che accade è che il problema spesso non è il sole o la pioggia, non è quello che accade, ma molto spesso il problema, ossia la ragione per la quale noi soffriamo, invece di utilizzare la parola problema, è perché non corrisponde a quello che secondo noi dovrebbe essere. Questo, da un lato è molto bello, perché fa vedere che in realtà è molto più semplice la soluzione in tanti casi, perché vediamo che noi soffriamo tanto sulla base di una proiezione su qualcosa che poi non c'è, un attaccamento, noi ci aggrappiamo a qualcosa che in realtà è illusorio. Però non è così semplice molare il colpo. Più che altro è trovare il giusto equilibrio fra riuscire a darci una direzione e allo stesso tempo non avere aspettative. In altre parole, non essere attaccati a come secondo noi le cose dovrebbero essere. Io, personalmente, lo vedo molto come la metafora un po' di veleggiare, nella quale uno si mette un obiettivo, io voglio andare in quel posto lì, quindi parto da un porto e voglio andare da un'altra parte, e mi metto l'obiettivo, può essere anche lontano quell'obiettivo, e quindi c'ho una direzione che voglio seguire. Io so benissimo che per arrivare in quel luogo devo prendere quella direzione lì. Però io non ho il controllo sui venti e non ho il controllo sulla corrente e tutto il resto. Perciò, man mano che vado, io non ho l'attaccamento a come dovrà essere quel percorso, quanti giorni ci vorranno, come sarà, mi faccio una sorta di un'idea. Però poi dopo, ogni volta che mi trovo davanti a un certo tipo di vento, o il giorno che non c'è vento assolutamente, devo stare ad aspettare, mi adatto alla realtà del momento, senza mai perdere la direzione in cui voglio andare. perché se no succede che io mi sono progettato che devo arrivare, poi a un certo punto non c'è vento, poi rimango male che non c'è vento, e come? E di qua, ma non doveva essere così, mi avevano detto che c'era vento, invece non c'è vento, e poi invece il vento doveva venire da sud, invece il vento sta venendo da nord, e adesso come faccio? E di qua? E di là? è importante per noi adattarci alle condizioni man mano che ci sono, e una cosa che è molto bella è che quando noi riusciamo a non essere così attaccati alla nostra propria visione di come le cose dovrebbero essere, ci apriamo a altre possibilità che altrimenti non vedevamo, ci apriamo a altre opportunità, perché in realtà in ogni momento, in ogni situazione c'è una quantità enorme di possibilità, e quando noi abbiamo un'immagine chiara, secondo noi in più che altro un'immagine idealizzata di come dovrebbe essere, ci chiudiamo a tutte le altre possibilità. Perciò cerchiamo di avere chiarezza dove vogliamo andare, però allo stesso tempo non rimanere attaccati a come e dove deve essere il percorso, a cosa deve succedere, a cosa non deve succedere, no? La stessa cosa riguarda anche le situazioni, riguarda le persone, noi ci relazioniamo con le persone nel miglior modo dentro le nostre capacità, però allo stesso tempo senza rimanere aggrappati a come l'altro dovrebbe essere, secondo noi, a quello che l'altro dovrebbe fare, secondo noi. Ma più che altro ogni qualvolta che ci troviamo in una situazione, cerchiamo di vedere qual è il miglior modo in cui noi ci possiamo relazionare. Ok? Dinanzi a questo, quello che accade anche è che più forte è l'attaccamento, più forte è il desiderio, più forte sarà anche l'avversione. Perché cosa succede quando le cose non vanno come secondo me dovrebbero andare? Rimango pacifico? O cerco il colpevole e sviluppo una certa avversione? Di solito abbiamo la tendenza di cercare il colpevole e sviluppare avversione. Questo assolutamente non ci fa bene, non riusciamo a... Non riusciamo a... Non posso dire anche... A goderci la vita, sai? Perché molto spesso uno rimane intrappolato nella propria vita, in una vita che dovrebbe essere e non c'è, in una realtà che c'è stata e non c'è più, in una visione idealizzata di come le cose dovrebbero essere e continua a vittimizzarsi e a incolpare e non riesce a godersi la vita, a vivere con un attimo di gioia. Per me è veramente uno dei punti chiavi di cui ho parlato molto spesso è l'importanza per noi di non metterci a vittimizzarci pensando ah, è la colpa di chi è, ma io perché l'altro, perché di qua di là. Ma comprendere che noi viviamo in una complessa interdipendenza e ogni azione, ogni scelta nell'insieme porta una differenza, fa, crea la realtà nella quale noi ci troviamo, no? Perciò l'avversione, di conseguenza la rabbia, di conseguenza il rancore, no? Anche con l'aggressività, eccetera, è uno di quei sentimenti che poi alla fine ci fa molto male. sia ad un livello mentale, emozionale, ma anche a un livello fisico, innanzitutto a un livello delle relazioni con le altre persone. Perché a nessuno piace essere vicino a qualcuno che manifesta aggressività. O c'è qualcuno che piace? Io non l'ho mai visto. Che sia questa un'aggressività diretta, indiretta, passiva, attiva, che sia questa un'aggressività verbale, fisica, di qualunque genere. Ok? Perciò se noi vediamo molto spesso la rabbia, l'oggetto di rabbia, è più spesso qualcosa, uno si arrabbia di più spesso per come le cose sono o perché le cose non sono come uno pensava che dovrebbero essere. Molto spesso in realtà uno si arrabbia perché la persona, la situazione, la cosa, non è come uno pensava che doveva essere. Ah, ma io non mi aspettavo che fosse così, ma questo non dovrebbe essere così. e uno rimane male. Però la realtà è che non è che quella cosa è così perché qualcuno ha voluto farci del male o perché doveva essere diversamente non è. Ma la realtà è che noi non siamo riusciti ad avere una visione coerente mettendo tutti i pezzi insieme non siamo riusciti a vedere questa complessa interdipendenza dove andava perché se avessimo quella consapevolezza avremmo visto quello che stava succedendo. Ok? Quindi la conclusione è che questa è una mia visione ma è molto importante avere un'attitudine di umiltà. Umiltà non intesa come un senso di inferiorità ma l'umiltà intesa che noi non abbiamo la capacità di determinare come le cose dovrebbero essere e dobbiamo adattarci alle situazioni alla vita man mano che si svolge al meglio delle nostre capacità e godersela al massimo. Questo mi fa ricordare una volta che eravamo in India insieme con Rimpuce e c'è stato un momento abbastanza tenso perché abbiamo avuto un incidente in macchina in Pullman ed è stato un incidente abbastanza brutto non è stato un incidente leggero leggero e in questo incidente questo era nel 95 no? Mi sa che da chi vedo qua vedo la Nunei e vedo la Gabriela che mi sa che erano tutte e due lì o no? Non c'era Gabri mi sa che neanche cose sì ma di che che vedo qua mi sa che non c'era nessuno comunque fatto sta che abbiamo questo incidente adesso non sto qua ad annoiarvi con i dettagli del perché del come dell'incidente ma praticamente c'era un camioncino che portava il fieno solo che aveva il triplo di quello che poteva quindi c'era il volume del camioncino moltiplicato per due per ogni lato no? quindi prendeva tutta la strada noi stiamo da una parte di notte dall'altra parte è venuto un camion che ha cercato di sorpassare questo camioncino col fieno e ci ha beccato in pieno praticamente quello quindi va tutto di fronte la nostra pullman è andato fuori strada tutta una storia comunque sia io ero seduto nel primo primo posto del pullman era un pullman abbastanza grande ho volato con una porticina di vetro che c'era sbattuto la testa su questa porticina per fortuna il vetro non è rotto la porta è caduta io mi sono alzato rimpoce si era fatto male quello dispiaciuto tanto quindi rimpoce cose sono i due che sono fatti mali sono scesi c'era una macchina piccola di amici nostri che era dietro che l'hanno portato subito che aveva bisogno in ospedale e io sono rimasto lì nel pullman piano piano scendendo e quando sono sceso dal pullman eravamo in un posto in campagna lontano dalla città quindi c'era un buio assoluto io ho guardato verso l'alto e ho visto il cielo stelato fra il più bello che ho mai visto non so se era perché avevo sbattuto la testa o quel che era fatto sta che era un cielo veramente veramente bello e mentre scendevo dal pullman e ho visto quel bellissimo cielo mi è venuta una gioia molto particolare la gioia di quel momento di quella bellezza che vedevo io ho cercato di dire agli altri ma avete visto che bel cielo mi guardavano come se io fossi un pazzo insomma guarda dove siamo in quale situazione ci troviamo e tu ci fai vedere il cielo io dicevo però che altro avete da fare tanto dobbiamo aspettare siamo qui non possiamo nulla da fare dobbiamo aspettare che vengano a prenderci qualcosa nel frattempo godiamoci il cielo perché il punto è se c'è qualcosa che non ci piace vogliamo rimanere nel dolore vogliamo rimanere in quella cosa direi di no molto spesso soffriamo molto di più nel post che nel durante l'incidente ormai era avvenuto adesso siamo già e quel momento è finito siamo nel momento adesso di dover aspettare qualcuno che viene a prenderci tutto il resto eccetera eccetera ma quelli che erano lì stavano tutti bene mentre siamo lì apriamoci alle possibilità apriamoci a quello che c'è se noi osserviamo noi passiamo molto più tempo nel risoffrire o nel pressoffrire che nel soffrire vero e proprio è molto più tempo a soffrire un futuro che non c'è e che non ci sarà probabilmente a risoffrire qualcosa che c'è stato che a vivere il momento presente e le difficoltà che ci sono effettivamente nel momento presente è un processo in realtà abbastanza complesso questo dell'immagine idealizzata che proiettiamo eccetera però che non è il momento adesso di entrare nei dettagli un po' di qual è il meccanismo che forma che genera questo però è importante per noi osservare e ricordarci che quando noi stiamo in un sentimento di malessere che viene magari un po' di avversione che può venire la tristezza o la sofferenza di qualche genere di attaccamento o qualcosa cerchiamo di vedere qual è il nostro oggetto qual è il mio oggetto di attaccamento è un qualcosa di concreto che c'è qui davanti a me che mi stanno togliendo il mio nutrimento o sono attaccato a un'immagine idealizzata di come qualcosa dovrebbe essere perché rimango male perché effettivamente c'è una situazione nella quale io soffro fisicamente mentalmente durante quel momento c'è una qualcosa effettiva che sto vivendo o rimango male perché qualcosa non è come secondo me dovrebbe essere perché molto spesso non sempre però molto spesso noi soffriamo perché le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere e noi ci aggrappiamo a queste realtà illusorie in un modo pazzesco quindi è importante avere un obiettivo è importante avere desiderio anche anche le qualità più importanti che si parlano nel buddismo come la bodhicitta è desiderio e io voglio sviluppare amore saggezza per aiutare gli altri io voglio aiutare gli altri è una forma di desiderio però che proietta la proietta proiettata su qualcosa che sostiene uno stato di felicità questa è la differenza però è solo questo quello che volevo principalmente condividere osserviamo invito ognuno a osservare quali sono i propri oggetti di desiderio quali sono i propri oggetti di avversione sono degli oggetti concreti sono delle illusioni sono delle immagini idealizzate o no ok perché molto spesso quello che accade anche adesso apro una porta la guardiamo dentro la chiudiamo non entriamo in quel mondo se noi osserviamo molto spesso quello che accade in realtà è che noi abbiamo un certo insoddisfazione abbiamo un certo stato di malessere o qualcosa e cerchiamo qualcosa su cui proietarla quando molto spesso quello è il risultato di un insieme di tante cose che non riusciamo neanche a sapere bene che cos'è però cerchiamo un qualcosa su cui proietarla cerchiamo un qualcuno che deve essere il colpevole e per capire se è così o meno una delle cose che possiamo fare è se noi riusciamo a osservare noi stessi tornare indietro vedremo che cosa avviene prima la sensazione di malessere o il colpevole perché se noi prima ci sentiamo ansia e poi dopo andiamo a cercare chi è il colpevole dell'ansia vuol dire che stiamo inventando qualcosa totalmente siamo solamente cercando di trovare un qualcuno su cui dare la colpa quello non è la causa di quell'ansia nella gran maggioranza delle volte il problema è che quando noi proiettiamo su qualcosa su qualcuno come la causa di quella sensazione di malessere dopo andiamo a interagire andiamo a parlare andiamo a fare eccetera eccetera creando altri conflitti e altre cose perciò è importante principalmente questo solo osservare se stessi e cercare di vedere quali sono i miei desideri quali sono le mie avversioni perché sono questi quelle che poi dopo direzionano le nostre azioni in gran parte ok e ogni tanto è importante ridirezionare i nostri desideri e le nostre avversioni e se vediamo che sono illusori ricordiamoci che non è altro che un film che ci stiamo facendo e che probabilmente le cose non andranno in quel modo quindi è inutile che rimaniamo male perché io giovedì voglio andare alla luna e quando arriva giovedì vedo che la mia navicella non è stata presente lì o facciamo una cosa un pochettino più reale mercoledì devo andare a Milano voglio andare in elicottero e mi creo tutta la mia immagine bellissimo andare in elicottero e quindi dico sarebbe più comodo mi piacerebbe tanto eccetera eccetera e quando arriva il giorno dove è l'elicottero non ci rimango male qualcuno direbbe ma sì ma che è un'esagerazione dai è ovvio che non c'è l'elicottero lì ma cosa vuoi di qua di là non è altro che una proiezione idealizzata su qualcosa che non ha le basi per essere per essere sostenuta noi facciamo tante cose così solo che non sono così chiare quando noi proiettiamo un'immagine idealizzata su una persona su una situazione su un luogo su un oggetto su qualunque cosa è totalmente illusoria e più ci aggrappiamo a questo più diventa difficile ok quindi ricordiamoci di questa immagine mettiamo chiaramente qual è il nostro obiettivo e un obiettivo che possiamo avere è quello di essere in pace con noi stessi essere in pace con gli altri quello di sviluppare sempre più amore più soddisfazione più equilibrio di agire con meno rabbia con meno non odio con meno rancore ok di cercare di fare in modo che le nostre azioni siano generino un'interdipendenza positiva verso gli altri e ci mettiamo un obiettivo e dinanzi a questo nostro obiettivo ci adattiamo la nostra quotidianità a quello che verrà ovviamente cerchiamo di programmare un po' ok oggi devo fare questo domani faccio quell'altro un minimo di programmazione lo facciamo anche la programmazione va bene ricordandoci che le cose non necessariamente andranno come ci aspettiamo e adattandoci alla realtà man mano che appare perché non abbiamo controllo di ciò che accadrà l'unica cosa su cui possiamo avere controllo è come noi andremo a reagire come noi andremo a interagire con ciò che accadrà ok e una delle cose molto belle che a me personalmente mi dà gioia è innanzitutto avere la possibilità di avere consapevolezza di poter osservare di poter riflettere di poter vedere perché questa consapevolezza è la prima cosa che ci dà gradualmente la possibilità di ridirezionare ok anche quello di cui abbiamo appena parlato di proiettare su qualcosa è un è abbastanza profondo abbastanza spontaneo questo attaccamento a un'immagine idealizzata delle cose non riusciremo a cambiarlo da un giorno all'altro però avere consapevolezza la prima cosa con dolcezza verso se stessi con affetto e quindi con questo vediamo piano piano ok questo è un desiderio illusorio non funziona se io rimango con l'idea che ogni mercoledì devo andare in elicottero ogni mercoledì rimaro male perciò a un certo punto dico è un'illusione è un attaccamento a un'immagine idealizzata sono io che mi sto facendo una menata e che mi faccio quella sofferenza non è colpa di nessuno perché io posso cominciare a dire che è colpa del centro perché io vado a Milano per insegnare e devo fare tante altre cose quindi il centro dovrebbe comprarmi un elicottero è colpa di tutti che non danno valori abbastanza a quello che faccio per questo non prendono un elicottero vedo davanti a me il presidente dell'associazione è colpa sua no sai il film che potrei fare se uno segue quella linea e la cosa più incredibile è che più andiamo avanti più cerchiamo di trovare una sorta di logica per giustificare quell'immagine idealizzata e quell'attaccamento lì e fra un po' quando vediamo stiamo lì creando la divisione perché poi uno influenza l'altro e fra un po' facciamo il gruppo che vuole che si compri l'elicottero e l'altro che invece dice che no e fra un po' abbiamo creato tutta una storia intorno a un qualcosa e possiamo passare giorni e mesi a sognare a pensare a come fare posso andare a cercare di vedere i modelli posso fare tutti cose diverse perché io ho bisogno dell'elicottero vado a vedere dove posso posare quando arrivo a Milano dove vado c'è lì il palazzo della regione lì vicino al Kumpen piuttosto che uno si fa tutta la storia di come è quello può calcolare quanto tempo ci vuole per arrivare così però sulla base di che cosa è una cosa che è illusoria perché non ci sono le basi per poter fare quello quindi sognare delle cose che sono buone va bene ma essere attaccati a una realtà idealizzata che poi dopo non ha le basi per sostenersi non è altro che generare più sofferenze e conflitto ok e fra queste immagini idealizzate c'è una che è abbastanza forte nella nostra vita che è che riguarda le persone come l'altro dovrebbe essere cosa l'altro dovrebbe fare noi possiamo cercare di direzionare di interagire di aiutare l'altro a sviluppare un aspetto piuttosto che un altro a comprendere una cosa piuttosto che l'altra ma noi non possiamo o meglio se lo facciamo rimaniamo male aggrapparci a un'immagine idealizzata di quello che l'altro dovrebbe essere perché ogni persona ha il suo percorso ha il suo processo e noi riusciamo a vedere anche una sola una piccola parte di tutto ok concludiamo qui perché se no rimaniamo tutto il giorno poi dopo cominciamo a aprire una cosa dopo un'altra però vi invito a fare questa riflessione osservare quali sono le immagini idealizzate su quale ognuno è aggrappato e attaccato e come questo poi alla fine va a generare sofferenza per se stessi perché quando noi riusciamo a riconoscere che un'illusione è un'illusione cambia il livello di attaccamento verso quello ok facciamo le dediche che tsuya la me kutsi rabtenchi nam kar trinle cho chur gyepa dan lo san tempe drume sasum ki drue munsel tatu ne gyur chi kye wakun tu yanda lama dan jalme chukki pe la long chuk ching sadan lam gi yu te rab zun dor j chang gi kop nyur to bhisho e nimo dele tsendele nime kuyan delek shing nime taktu delek pe kun cho sum ki jing lo kun cho sum ngo jub sol kun cho sum ki tra shi shong all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioieli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio una sola cosa ancora ti die portami la sadhana ti die ha chiesto la trasmissione del guru yoga di tara cittamani quindi facciamolo questa trasmissione insieme a tutti adesso non ci mettiamo a spiegare che cosa è il guru yoga di tara cittamani e tutto il resto facciamo la trasmissione questo fa parte della sadhana della pratica di tara ok che uvargi Grazie a tutti. 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 Buona giornata a tutti.